Concerti, scoperte, incontri sono le tre parole chiave di Pordenone Fa Musica, proposta per il secondo anno consecutivo da Polinote in collaborazione con il comune di Pordenone da venerdì 12 giugno a sabato 20. Pordenone Fa Musica è incontro tra maestri e allievi, tra professionisti appassionati, tra artisti e curiosi. Gianni Fassetta, rappresentante di Polinote, rete musicale pordenonese. Quest'anno la rete musicale delle scuole pordenonesi ripropone questa iniziativa, questo evento, allargandolo abbiamo la possibilità di entrare nelle nostre istituzioni, nei nostri musei e di portare quanto di fresco abbiamo a disposizione con le nostre scuole di musica. Abbiamo anche una new entry perché nella nostra filosofia di collaborazione tra tutte le arti, non solo quella musicale, quest'anno abbiamo anche l'entrata della poesia community pordenonese, che è legata anche a Pordenone Legge, che farà delle letture e quindi collaborerà insieme con i nostri allievi, con i nostri docenti nei vari musei pordenonesi. Il comune di Pordenone apre a musica e poesia le porte della Galleria Pizzinato, del Convento di San Francesco e dei musei. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. La musica è fatta soprattutto dai più giovani che alieterà e renderà viva la città ma soprattutto proporrà tutta una serie di concerti e di proposte musicali eseguite dai ragazzi che renderanno più viva e migliore anche la nostra città. Per cui l'augurio che Polinotte continui sempre così e sempre meglio e soprattutto che il pubblico partecipi col calore e con l'entusiasmo che ho visto lo scorso anno.